Sega, polpino, masturbarti, ditalini, farmi una sega davanti a tua nonna, tua nonna lubrificata, io me la penetro, mestruazioni di ritardo, schizzi sanguinolenti, venire in faccia a tuo marito, fatti una sega con lubrificante, passare il pomeriggio a masturbarti guardando cartoni animati, ditalini con la sappia, metterlo in culo a tua nonna e venire in bocca a tuo nonno, prendere una signora e impararla, bocca a poncio, Benvenuti a Italia e a Nuova Zelanda, un incontro culturale per la crescita multiculturale, siamo in un supermercato in cerca di qualche bevanda, qualche cibo che riesca a portarci alla profonda conoscenza del lucro di un continente, per oggi abbiamo comprato delle banane per infilarne nel culo delle nostre amiche, stiamo proseguendo il nostro viaggio in cerca di qualche altro alimento in grado di fornirci il fabbisogno quotidiano medio di un italiano di 30 anni. Ciao, ciao!